Questi 5 anni sono un'etapa importante perché rappresentano un risultato che grazie a Barbara non avrei mai sperato di raggiungere. Abbiamo creato tantissimi giochi, i primi tre abbiamo fatto appunto io e Barbara che erano le sfumature delle emozioni, l'inventa fiabe, scopriamo il mondo e sono stati là per qualcosa di molto più importante e sviluppato. Tra l'altro grazie a Barbara ho potuto scrivere appunto un libro pubblicato con Gribaudo, per me questo è stato assolutamente un sogno che si è realizzato, quindi questi 5 anni sono professionalmente ma anche personalmente qualcosa di assolutamente importante, devo dire grazie a Barbara e penso che il lavoro di Quid Più possa svilupparsi in maniera ancora più importante nei prossimi anni. Grazie. Grazie.